Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo insieme a un mio amico Dogrex2317 Che oggi faremo un video insieme a lui Aspettate Ok ragazzi aspettiamo che Ok Oggi ragazzi faremo delle partite in duo Di cui Faremo due partite 3v3 E due partite in duo Ma io le scrivo Ok ragazzi io l'ho detto Perché ragazzi cosa a me riuscirà ad arrivare a 890 vittorie 3v3 Poi alle vittorie in duo 425 Poi sono arrivato anche a 100 vittorie Ok ragazzi iniziamo Io mi metto Dai spazi mi metto Vai ragazzi iniziamo la prima partita Ok teniamo un carlo in squadra quindi penso che Aia Ok Ok Vai 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 nooo No don't martirano Oh No don't martirano No don't martirano No don't martirano No don't martirano Ok Ok No don't martirano Ok Ok Che succede Ah 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 No Ah 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 è un'altra cosa che c'està davanti no, piazzoloso verdeiris No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no due vittorie in trio e due vittorie 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 non c'è il palo comunque era impossibile era morto e... no ok ok no non si credo bravo però sono ancora... 3 minuti è morta e ragazzi guarda il giustizio anche se c'è la grado di sciaccia non c'è la grado di sciaccia e non c'è la grado di sciaccia come schifate il copo di lava al mondo? come schifate il copo di lava? come schifate il copo di lava? come schifate il copo di lava? Oh, non ci credo Un'altra volta Ma non è possibile Vai, stecca vai Oh, non ci credo Questa, questa è? Questa è? Poi ragazzi Questa è la cosa da prima faccia da cosa Ci manca una mano Vai, bella giornata Ok, adesso ci manca un'altra partita In trio E poi passiamo a Lodi Oh, che c***o Non ci credo, guarda già Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ok, fatto, bravo, ok Ok Eh, mi sa che questa partita sarà un po' difficile. Ma non, il momento è già corto, ma non è già di che livello 10, no, però... Ah, adesso è morto. Ah, adesso è morto. Ok, non è già di che è morto. No. No, ci stavo facendo la torre, ci stavo facendo il filo. Ok. Forza, dai, brocco. Dai. Sì, è morto, non è segnato. Dai, 30 secondi. 16 di vita. È rimasto il grex. Dai, qua non mi sa che faccia i miei supplementari. Sperando di riuscire la bug. Certo. Uno. 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 One. Uno. 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 No, uno, uno. Nonno, uno, uno! No, uno, uno. Un' tempo è noto. Non. Tenetemente la borsa, dai. Oh my god Provo a mettermi Non so, è difficile ragazzi, non so No, ragazzi Ok, ci sono altre tre parti ragazzi Nooo Ok, vai 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 No ragazzi, avessi mi drink shot No, 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 non ci credo Non è un riservo E non è un riservo Nooo, è un riservo E ragazzi, è stato un riservo di fissione da vinci è stato overpowered oh fuck la terra in fondo e non dai non guarda questa partita da tutti i video guarda quella torretta guarda 30 secondi rimanenti andiamo a supplementare se ci riesce guarda non ci vedo guarda mi sa che condena a supplementare no 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 adesso devo rimorirlo ci provo raga no palo di merda no bravo di nuovo no 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 ok ragazzi ho stoppato un po' perchè con il nostro video durava una mezz'ora siamo riusciti a vincere la partita in football questo doveva soltanto vincere due partite in quindi oh super no 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 ok ragazzi non no 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 ok no i no non ho nessuno I'm going to talk to my little friend Ese ragazzi lo scolpito Ese ragazzi sono molto divertido No, sono morto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, dopo 18 minuti di video ce l'abbiamo fatta, ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanellina che oggi è il mio primo giorno che ho creato il mio canale, ricordatevi di mettere un bel mi piace e lasciate like, ciao!